Ben ritrovati per una nuova puntata di Coldiretti Flash da Michelangelo Pellegrino e da Chiara Sergio Marini è stato confermato all'unanimità per il secondo mandato alla guida della Coldiretti per altri quattro anni dall'assemblea elettiva partecipata dai presidenti regionali e provinciali e dai rappresentanti dei movimenti. Il nostro servizio. Sergio Marini è stato confermato per il secondo mandato alla presidenza di Coldiretti. L'assemblea lo ha rieletto all'unanimità e ha rinnovato la giunta dove entra tra i componenti anche il presidente della federazione piemontese Roberto Moncalvo. Nel corso della giornata dedicata all'assemblea elettiva il presidente di Coldiretti ha annunciato di guardare alle prossime elezioni e di prepararsi a presentare le proposte dell'organizzazione agricola a tutti gli schieramenti politici con un documento articolato in dieci punti. L'Italia che vogliamo. Per la prima volta, ha dichiarato Marini, troviamo un'attenzione all'agricoltura nei programmi dei diversi partiti. È un dato positivo che valuteremo con cura nei contenuti al fine di verificarne il livello di condivisione e poi, al termine della campagna elettorale, daremo il giudizio della Coldiretti, che rappresenta 1.600.000 iscritti. Moncalvo ha rilanciato il suo impegno per la giunta nazionale e per la federazione del Piemonte. Documentazione per il trasporto del vino. Il Ministero dell'Agricoltura ha accolto la richiesta di Coldiretti e ha stabilito la sospensione della circolare di fine 2012 che imponeva ai produttori vitivinicoli inutili in convenze burocratiche come previsto dalla Commissione europea. Il servizio. Si tratta di una vittoria che Coldiretti ha ottenuto nell'interesse dei consumatori e dei produttori, oberati da una burocrazia inutile. C'è molta soddisfazione per quanto siamo riusciti ad ottenere, ma anche prudenza e attenzione, commentano Marcello Gatto e Bruno Rivarossa, presidente e direttore di Coldiretti Cuneo. Prudenza perché la marcia indietro è comunque provvisoria, in attesa del parere definitivo della Commissione. In ogni caso, le complicazioni introdotte dall'inizio dell'anno sono congelate e invitiamo i produttori a non spendere tempo e denaro per cambiare programmi informatici nuovi stampati. Ora l'obiettivo è di mandare in porto le richieste contenute nel progetto di semplificazione di Coldiretti, che entro agosto 2013 dovranno essere prese in considerazione anche dalla Commissione europea, nell'ambito della riforma dei documenti di accompagnamento vitivinicolo. In questi giorni si è aperto un intenso dibattito sulle zone vulnerabili da nitrati. Nella legge di conversione del Decreto Sviluppo è stata disposta la revisione da parte delle regioni delle aree indicate come vulnerabili e la sospensione per un periodo non superiore a 12 mesi della loro validità. Ma non si è fatta attendere la reazione della comunità europea. Vediamo insieme il servizio. A fronte del provvedimento italiano la reazione di Bruxelles è stata immediata. Come testimonia la richiesta di revoca del provvedimento giunta ai ministri Corrado Clini e Mario Catania da parte del commissario all'ambiente Iane Potocnik. La reazione della comunità europea rispetto al contenuto del provvedimento di revoca delle zone vulnerabili è stata ricattatoria. In buona sostanza la Commissione europea ha detto alle regioni che o si ripristinano i vecchi provvedimenti oppure sarebbe stata bloccata l'erogazione della PAC a tutte le imprese zootecniche. È chiaro che ci troviamo di fronte ad una situazione a dir poco difficile. Da una parte il governo italiano ha capito che l'inquinamento da nitrati non è solo imputabile all'agricoltura. Dall'altra l'Unione europea che con questa minaccia dimostra di non aver sentito ragioni. Col Diretti continuerà a seguire la materia. Per quanto riguarda la provincia di Cuneo si precisa che la PAC viene erogata su una superficie totale di 296.911 ettari per un importo annuo che nel 2012 è stato di 122.973.311. È di questi giorni l'ennesima presa di posizione del presidente di Col Diretti Sergio Marini che ribadisce che la PAC deve essere data solo agli agricoltori professionali e non deve essere una rendita. Un'analisi di Col Diretti sui dati del censimento agricolo evidenzia che nei campi raddoppia il numero di persone laureate nonostante il calo registrato nelle immatricolazioni delle università italiane nello stesso arco di tempo. In servizio. L'esigenza di un'adeguata formazione culturale e professionale per affermarsi nel mondo del lavoro riguarda anche l'agricoltura, dove si è verificata una straordinaria crescita degli agricoltori impegnati in attività multifunzionali di trasformazione e vendita di prodotti e nell'offerta di servizi innovativi. Dall'analisi si evidenzia peraltro che del 6,2% dei capi azienda laureati la grande maggioranza ha frequentato facoltà diverse da quelle di Agraria. L'INIPA, l'Istituto di Formazione Professionale di Col Diretti e l'Associazione Gruppi Continuatori Sviluppo al quale fanno riferimento i tecnici che svolgono assistenza tecnica in campo hanno eletto i nuovi presidenti. Degli Arevelli all'INIPA e Marco Melica ai gruppi continuatori sviluppo. Vediamo insieme il breve servizio. Degli Arevelli è una giovane imprenditrice agricola del Cuneese che opera nel settore ittico. Ricopre già l'incarico di vice responsabile regionale di donne impresa e responsabile provinciale di Cuneo del movimento. Marco Melica, 33 anni, di buttigliera d'Asti, gestisce col fratello un'azienda agricola ad indirizzo zootecnico allevando capi di razza bovina piemontese. Il giovane imprenditore astigiano è il delegato provinciale giovane impresa Asti nonché membro del comitato giovane impresa di Coldiretti Piemonte. È tutto per questa edizione di Coldiretti Flash. Vi ricordiamo che è rivedibile anche sul sito www.cuneo.coldiretti.it. Un saluto da Chiara Serra e da Michelangelo Pellegrino. Arrivederci alla prossima edizione. www.cuneo.coldiretti.it. 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 www.cuneo.coldiretti.it.